Chissà che cosa la mia mente avrà elaborato oggi? Lavorando a stretto contatto, strettissimo direi, con i personal trainer mi sto dilettando ormai nella formulazione di impasti arricchiti in proteine perché come sappiamo gli sportivi e gli atleti, o perlomeno una buona parte di essi si stanno sempre più interessando alla dieta iperproteica. Quindi dopo barrette, budini, crostate, pizze e quant'altro oggi è la volta del pane proteico che prepareremo mescolando la farina bianca con un po' di proteine in polvere che possono essere proteine concentrate della soia oppure semplicemente proteine del siero del latte e poi per dare un tocco anche un po' rustico al pane utilizzeremo un po' di semi di papadero. Dunque, amici sportivi, mettiamoci all'opera e vediamo quali sono le dosi di ingredienti per preparare il pane proteico. Per preparare una pagnottina proteica da 400 grammi circa che sono necessarie. Grosso modo 200 millilitri di acqua 170 grammi di farina manitoba Poi ancora, ingrediente fondamentale, proteine. Io ho utilizzato proteine concentrate della soia ma potete tranquillamente anche acquistare proteine del siero del latte. Noi le compriamo regolarmente presso il sito www.produzionintegratori.it Poi ancora 15 grammi di lievito di birra, 15 grammi di semi di papadero e 5 grammi di sale fila. Come vedete io sto già sbriciolando il nostro lievito di birra e adesso lo sciogliamo in un bicchierino con un po' di acqua tiepida, possibilmente. Lo sciogliamo un po'. Circa ne prelevate una metà. Adesso io non ve l'ho detto tra gli ingredienti, comunque se volete facilitare la fermentazione dei lieviti potete tranquillamente aggiungere anche un po' di zucchero direttamente all'interno dell'acqua e il lievito. Così insomma lieviteranno un po' più velocemente. A questo punto, in questa bulla, abbiamo messo tutta la farina. Quindi farina manitoba che è una farina forte in grado di sviluppare un bel po' il glutine perché poi andremo ad aggiungere le proteine che appesantiscono sicuramente il pane. Ok, adesso versiamo al centro della nostra farina tutto il lievito sciolto. Mescoliamo un pochino così, prendendo poca poca farina, in questo modo e lasciamo lievitare per circa 10 minuti, fino a quando il nostro lievitino si sarà un pochino gonfiato. Come vedete il lievitino è leggermente cresciuto, vedete è diventato un po' più gonfio e adesso possiamo aggiungere anche le proteine concentrate della soia, così, il sale. Magari mettetelo sopra le proteine ed evitate il contatto diretto con il lievito perché come sappiamo, come lo ripeto anche sempre, il sale va ad alterare un pochino la fermentazione dei lieviti. Poi ci aggiungiamo anche i semi di papavero per dare quel tocco un po' rustico, se volete potete anche sostituirli con dei semi di sesamo. E adesso aggiungiamo la rimanente acqua, che servirà praticamente tutta. Anzi, probabilmente sarà necessario aggiungerne altra, comunque voi andate per gradi e vedete se sarà il caso di aggiungere ancora un po' di farina o ancora un po' di acqua. Quindi mescoliamo come al solito con il cucchiaio di legno e poi a mano. Stiamo lavorando la pasta da circa 5 minuti per facilitare la formazione del glutine così otterremo anche un risultato bello soffice. Adesso sbattiamo un pochino il nostro impasto che deve essere, come vedete, piuttosto molliccio. Quindi se è troppo duro l'impasto fate attenzione e aggiungete ancora acqua. Molto bene, adesso vedete io prendo uno stampo di queste dimensioni, quindi diametro 18 cm. Poi facciamo una pallina e mettiamo all'interno il nostro panettino. Magari per renderlo ancora un po' più bello, con delle forbici, facciamo dell'incisione. Così. E questo lo mettiamo subito a lievitare per circa un'oretta, un'oretta e mezza. Attenzione perché non lieviterà come un pane normale, perché come vi ho già detto abbiamo le proteine che appesantiscono un po' il tutto. Comunque dovrà risultare bello gonfio. Dopo circa un'oretta, un'oretta e mezza, questo è il risultato. Come potete vedere il pane si è un po' gonfiato, ma non troppo. E adesso lo mettiamo subito in forno a una temperatura di 190 gradi, quindi il forno deve essere già caldo, mi raccomando. E lo lasciamo cuocere per circa 25 minuti. Eccolo qui. Sicuramente i sostenitori della dieta iperproteica apprezzeranno questa mia ricetta, ma guardiamo un pochino le caratteristiche di questo pane. All'esterno si presenta molto croccante e anche ha una bella doratura invitante. L'interno invece, vedete, è sì morbido, ma non così soffice come invece il pane bianco o il pane integrale che siamo soliti consumare. Perché l'alveolatura così fina, così fitta, è data dalle proteine che come vi dicevo prima appesantiscono un pochino il tutto. Per renderlo un pochino migliore io vi consiglio di tagliarlo a fettine piuttosto sottili come ho fatto io e di tostarlo un pochino nel grill prima di consumarlo e vedrete che il risultato sarà eccellente. Quindi grazie per l'attenzione, spero che il mio pane proteico vi sia piaciuto, seguitemi ancora su My Personal Trainer TV.